Dopo domani, con la presenza di la Sara, di la Barbassare e dell'assessore al bilancio, Mazzino, allora la soluzione la danno il giovedì, noi aspettiamo questo giovedì, perché l'incontro sarà per spesso le decine e mezza di sei a quattro, non si sa, vediamo se ci chiama. Io sinceramente come assessore qui al posto del municipio dove voi siete stati, verrei anche io all'incontro, allora mi dovete dare modo di verificare perché io ad oggi non sapevo di questo incontro, mi chiedo di lasciare neanche l'assessore Barbassare, allora se ci lasciate il numero di telefono, perché io mi perdo tutto, a dare pazienza, a un limite, e lì ci sono le mie collaboratrici, li conoscerete perfettamente, andate per loro, lasciate il numero di telefono, io verifico con gli uffici, l'orario e tutto quanto e poi vi chiamiamo perché se, ma ho piacere ad accompagnarvi anche io personalmente, oltre che alla Barbassare. Scusi, buona domanda, lei sta dicendo praticamente che voi non sapete di questo incontro, quindi vuol dire che questo incontro, ma non sa se si farà, l'assessore Barbassare ha la sua autonomia, è un altro assessore quello, ancora siamo in presidio, di notte e giorni, con le temi, del dopo, striscione, la gente che dorme là, noi dormiamo là, presidiamo la piazza, a Loreto, come si dice, ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo e trova lì, ok, magari, abbiamo bisogno di questo, ciao, davvero è vero, questo è un'immigrazione, noi stiamo parlando, se si rinistrata, 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 lasciate un legato, un mortale, allora prendi la signora, signora, tu vai là, e... comunque, il corteo si va fino all'assessorato, comunque, il corteo parte giovedì, da Garbatella, e fiamo un corteio lungo, in carrivole, anche in Filizuolo, la piazza, la piazza, la piazza, Grazie. 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 Grazie a Roberto. Prego, venga. No, se posso... Il microfono non si sente veramente in niente. No, dico nel senso se posso parlare così. Io rappresento l'osservatorio territoriale per l'inclusione scolastica del municipio Roma 5, che è un organismo interistituzionale integrato nell'ufficio di piano a partire da questo triennio. Io ho due o tre questioni molto tecniche e amministrative e un'altra che riguarda invece le persone Roma. Cerco di mettere in fila le cose, cercando di essere il meno noioso possibile, perché io metto in luce intanto un aspetto che riguarda le persone di ceterianza non italiana, i minori, se io, anzi no se io, quando io rivolgo al gruppo di lavoro regionale della regione per l'inclusione, se ci sono problematiche nel percorso di accertamento della stato di disabilità per i minori stranieri, la risposta che ottengo, che non è, non so se c'è un'ipotesi, quello che è già successo, è che non esistono ostacoli, ciò non risponde alla realtà dei fatti, esistono, sono stati frapposti in maniera, cioè neanche chiara, delle ostacoli di natura tecnica e amministrativa per i minori di origine di ceteriana, in tutti i vari passaggi, per arrivare a quello, cioè per fare tutto il percorso di riconoscimento in commissione medico-legale integrata con l'Inps e per la famosa verbale di 104, sono vari passaggi, in ognuno di questi passaggi non c'è un percorso univoco per i minori stranieri, in tutte le fasi e questo indipendentemente se abbiano l'ENI, se abbiano le STP, e se abbiano il codice fiscale, se non ce l'abbiano, è legato alla residenza, è legato alla residenza. Questo sicuramente è una criticità che ha una rilevanza, soprattutto sull'anomalia che è tutta nostra, tutta italiana, per il quale un intervento di sostegno didattico nelle scuole è legato a un percorso tecnico-amministrativo concepito per fini economicistici, che è una cosa che ci rasciniamo da vent'anni, ma così è. Il problema è che questa cosa non è chiara, il GLIR non ha chiaro questo, il GLIR è convinto che non ci siano ostacoli di questa natura. Un altro tipo di ostacoli che sono non tecniche-amministrative, ma di altra natura, che un po' si potrebbe anche collegare all'intervento della rappresentante di nuove risposte, nel percorso valutativo presso gli ambulatori territoriali delle asle, i minori stranieri hanno un'accesso ai strumenti di valutazione, soprattutto per la carezza di un supporto di mediazione linguistica e culturale. Distingo questi due piani perché intanto c'è un problema proprio di trasliperazione e di trasduzione, che è banale, ma c'è anche un problema di tipo culturale, scientifico-culturale. Un problema è un problema infantico, non ho io, che strumenti ho per valutare? Il cosiddetto intellettivo globale di un bambino cinese, anche residente in Italia da 5-6 anni. Ho degli strumenti che sono talati per una popolazione con un'altra cultura, con un altro patrimonio linguistico-culturato, perciò faccio all'impronta. E purtroppo, lì, essendo il medico, agendo per scienza e coscienza, lo stesso bambino può essere valutato in maniera diametralmente opposta a seconda di chi incoccia, perché anche i medici che possono ritenere le difficoltà di tipo cognitivo, di tipo relazionale e adattive, non dipendono da un diverso funzionamento neuropsicologico, ma semplicemente dal fatto che la loro cultura è quella. E guardate su questa cosa, sono parecchi anni che mi occupo di inclusione. Abbiamo passato anni per convincere il personale sanitario specialistico, per esempio, che i bambini rome avevano gli stessi diritti intrinseci di poter subire, di avere un ritardo, una disabilità elettiva come chiunque altro, e che se non realizzavano, se non apprendevano in una media degli altri bambini, non dipendeva perché la loro cultura è quella. E questo è un aspetto, un altro aspetto. Un altro aspetto tecnico-amministrativo, sempre legato a un contesto diverso, apparentemente banale, le scuole, soprattutto le scuole primarie, hanno nella maggior parte del senso di messa scolastica, in cui i cittadini in stato di carezza, di incapiezza economica, accedono a un riconoscimento di ISEF, che permette un'esenzione e una contabilità particolare. Ma non è sempre così. Un numero significativo in tutte le scuole di minore, di cittadinanza non italiana, non hanno un reddito che permette di pagare le quote. Alla fine risultano evasori, alla fine risultano ammacchi in bilancio, che nelle menze gestite dal municipio, comunque è un ammanco di cassa per l'amministrazione pubblica. Nelle scuole, per esempio, quella in cui lavoro io, in cui la menza sono gestita, sono debiti, sono debiti che paga la scuola, col fornitore del servizio. Questo è un aspetto super. Quanto riguarda invece la popolazione, la polterom, nel municipio V, per esempio, esistono diverse situazioni, anche lì di appena in mente opposte. In alcuni casi sono stati affrontati delle problematiche, delle emergenziali già sociali, e anche di integrazione scolastica. Sono stati affrontati con un'esperienza di eccellenza che era un gruppo di lavoro integrato in cui, dell'inserimento dei cordiani, per fare un esempio, lavoravano con incontri periodici, in maniera integrata, paritetica, il municipio, l'AS, il consultorio, il DSM, il SET, il NAE, le scuole e le strutture incaricate di scolarizzazione o di gestione della struttura. E si affrontavano le situazioni, caso per caso, con gli strumenti non mirati specificamente per la popolazione ROM, per un'emergenza ROM, ma per le politiche sociali di qualsiasi altra persona. E i risultati ottenevano. Tutta questa esperienza è finita, perché già da un po' di tempo a questa parte c'è stato un disinvestimento politico e amministrativo di qualsiasi intervento che potesse consentire questo. Viceversa, sono altre situazioni, io sono anche cittadino di una Presidente a Torsa Pienza, non ho bisogno di aggiungere qual è la conseguenza di altri tipi di gestione, qual è il grado di coesione sociale di un territorio dove anche un intervento del genere... Quindi, a confronto abbiamo questo, abbiamo la mancanza di coesione sociale dovuta a un totale disinvestimento e un altro tipo di gestione dovuta invece a un lavoro integrato di tutti gli operatori, di tutti gli attori di questa situazione. La fuoriuscita dal campo, la fuoriuscita dai campi, virgolette, in molti casi stanno già avvenendo, ci sono famiglie che stanno scappando da salone, stanno scappando da campi, infandali questo tipo qui. scappano che la situazione non è possibile, vanquare altre situazioni, con la conseguenza che sono non residenti, non esistenti, non legali, con tutte le problematiche che ci sono. Quindi io purtroppo so che ho detto un sacco di cose tutte in fila, in maniera anche vagamente confusa, però chi è nel territorio, queste cose qui affrontano politicamente. Non era assolutamente confusa, le risposte di soli. Grazie. Grazie a tutti. Ciparone, Ciparone Mauro. Io volevo cominciare il mio intervento con una domanda, ovvero quando arrivate in una città ci si sente a casa? Per me la risposta riguarda quando si ha un'amica di amicizia e di conoscenze sociali. Non voglio chiaramente sottovalutare o sottostimare l'importanza di aspetti che sono alla base di tutto quanto, ovvero avere la casa, parlare la lingua, il lavoro. So che ci sono tutti questi problemi, però quello che vorrei dire che è all'interno di un programma, di un piano sociale, bisognerebbe guardare anche all'elemento delle aspettate tra gli italiani e tra gli italiani. Questo beneficia tutti e due, beneficia gli stranieri perché gli dà dei contatti che gli possono far vedere la realtà locale con occhi diversi e beneficia gli italiani che conoscono queste persone che, a parte l'arricchimento di questo incontro, ma anche, in qualche modo, toccano con mano la differenza tra realtà e quello che arriva attraverso una similità. Noi siamo un'associazione che si occupa di favorire per gli italiani o per chiunque la possibilità di trovare attività sul territorio e di impegnarsi nel sociale. Funziona attraverso il sito internet, è molto semplice, uno può cercare, ci sono circa 300 attività al mese. Stiamo lanciando un progetto molto, molto semplice che vorrei brevemente restituire, non tanto perché è una cosa che, insomma, dovrebbe far parte, secondo me, cioè, fa una piccola parte la soluzione, ma perché secondo me è un tipo, è un modo di vedere le cose di cui ce ne vorrebbe molto di più, di città. Noi fondamentalmente organizzeremo delle scene fra italiani e stranieri a casa di, o di un italiano o di uno straniero dove uno porta qualcosa è nato da lui da condividere. Ma questo qui è il metodo che non è un'esercizio o di un'esercizio? Questo è un modello che noi abbiamo copiato dall'Australia, dove questo progetto esiste da quattro anni in tutto il paese e funziona molto bene. Perché mi sa che ci sono un'esercizio? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Ecco, io diciamo quello che volevo dire è che al di là di quello che poi devono fare le istituzioni è importante che un piano sociale comprenda anche delle attività per mettere insieme i cittadini italiani o stranieri farli conoscere e creare dei legami perché il tessuto sociale si forma ed è fatto di legami personali tra le persone e non da non soltanto da risolvere problemi tra gli altri ci troveremo tra alcuni anni con i ghetti in cui le comunità vivono separate e quindi io un po' l'invito soprattutto alle associazioni e alle realtà del territorio di pensare in modo creativo per trovare dei modi per far incontrare le persone farle stare insieme e far creare rapporti di amicizia grazie Roma altruista chi si cerca di ascoltare le persone per la Roma altruista volvo l'occasione perché noi proprio stamattina in Commissione Politiche Sociali qua nel municipio abbiamo iniziato abbiamo incontrato i vari dirigenti degli sprati presenti sul nostro territorio e inizieremo dei progetti di collaborazione proprio per favorire l'integrazione quella di cui parlava anche lei quindi chiunque di voi colgo l'occasione del suo intervento voglia partecipare con noi a queste progettualità può lasciare i propri riferimenti perché noi iniziamo già da venerdì questo una serie di incontri proprio per arrivare a un'integrazione reale di queste persone per farsi conoscere per diventare poi vita quotidiana quindi prendiamo l'occasione di quello che le ha detto per estendere l'invito a tutti i presenti se vogliono partecipare noi lasciate un riferimento un numero di telefono noi già da venerdì iniziamo e quindi vi coinvolgiamo attivamente in questo progetto sicuramente vorremmo venire per invitare a cena noi sicuramente ma anche noi invitate a cena in qualche modo anche voi se volete partecipare io sempre e volentieri tra italiani e stagiani vi potremmo venire assolutamente scusate in un inciso quello che è proprio discusso oggi in commissione abbiamo incontrato in particolare un dirigente dello stadio di direzione proprio in aula loro già in precedenza avevano attivato un progetto sul territorio che noi stiamo riprendendo e vogliamo estendere a tutto il resto del territorio che qui abbiamo si cifrati a cui ce n'è di lavoro a fare e da lì vedremo attivare la progettazione per quanto riguarda una giornata che verrà poi patrocinata dal nostro municipio con l'aiuto del capitale di Svelo quindi in parte del territorio un'associazione in particolare che si occupa della polizia poi dell'ambiente del territorio del nostro municipio e poi ovviamente noi consiglieri ma è esteso poi a tutta la cittadinanza per cui vi invito caro e sicuramente a partecipare ma a venerdì e a attendere con noi la congettualità anche ad altre iniziative perché ecco non vuole essere soltanto un unico un'unica giornata un unico incontro sporadico dove la cittadinanza comunque viene a contatto con questi ragazzi ma in realtà deve essere un percorso e anche individualizzato poi per poi il primo di cittadinanza è un percorso che già da Torre Noro a Torre Spaccato a Conte di Nona sono delle altre diverse e quindi proprio vogliamo creare questo progetto e quindi vogliamo citare qui in aula consigliate grazie applausi 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 almeno nei nostri figli l'applausi ce l'ho trovato ah scusate ma è distratta Moretti Aldo si mi chiamo Moretti Aldo e mi dedico a un'associazione che si chiama professione in famiglia famiglie che combattono con il problema della non autosufficienza e che spesso ricorrono alla badanza ora questo è uno spicchio del mondo dell'immigrazione che passa spesso sotto silenzio vi dico dei numeri iscritti all'INSS nella provincia di Roma però nella provincia di Roma è poco più del comune hanno nel 2015 118.000 persone di queste 100.000 sono donne e 100.000 e 2.000 sono italiani sono immigrati ok 30.000 sono dichiarate badanti ma però ce n'è 49.000 25 ore 25 ore è il comune che c'è lotta anche per una badanza tempo pieno convivente per pagare meno contributi io credo che intanto c'è il problema della nuova autosufficienza se ne parlerà in un'altra sera ma osservazione che facciamo che è fuori dall'ordine del giorno della vita sociale di questo paese possiamo riconoscere non se ne occupa il governo non se ne occupa i partiti e perfino i sindacati non la considerano il primo punto delle loro piattaforme e c'è questo fenomeno vastissimo del lavoro nero il rapporto immigrazione della statista e del dossier statistico dice che per una in regola ce n'è una in nero quindi in provincia di Roma parliamo di oltre 200.000 persone anche su questa storia del lavoro nero che poi coincide con il fatto che è nato la questione tutti siamo pronti a dire che è una cosa cattiva non è vero l'opinione prevalente è che se una famiglia si arrangia con la banana in nero va bene io credo che questa sia una cosa molto grave ma è così perché quando si considera grave un problema più o meno si decide di metterci le mani naturalmente occorrono iniziative nazionali io parto da una cosa semplice per esempio c'è un contratto di lavoro per il lavoro domestico che in parte non dico è fatto apposta ma è generatore di decisionalità ci sarebbe bisogno di un contratto semplice che possa essere applicato anche di chi non è laureato e c'è bisogno di organizzare aiuto e assistenza alle famiglie sia nella ricerca del personale che nella gestione del rapporto di lavoro per evitare di lasciare il luogo c'è bisogno di qualificazione delle persone c'è da considerare che spesso sia il datore di lavoro che la famiglia sia la badante che spesso immigrata sono due soggetti deboli qui non c'è il padrone delle terriere e gli ai cittuti qui sono due soggetti deboli che spesso trovano d'accordo fra di loro le vie di uscita io non insisto volevo solo dire che questa cosa bisogna metterci le mani bisogna metterci le mani in un'azionale per esempio noi abbiamo una proposta che qualcuno considera bizzarre e demagogica però noi pensiamo che bisogna decidere la deduzione dal reddito di tutta la spesa per la badante è chiaramente una spesa per lo Stato però pensiamo che parlando di quasi 800.000 persone se si offre alle famiglie una convenienza importante alla regolarità potremmo la metà di questi apporti e quindi la spesa sarebbe compensata dall'entrata di IRPE e di contributi però non vi intrattengo su queste cose qui mi sembra che sarebbe bene dentro a questo percorso che avete organizzato anche immaginare che si ragioni in specifico di questa problematica noi faremo la nostra parte della remota grazie Silvio Santoro eccomi qua senza essere ripreso gentilmente anche se mi considero un attore professionista però mi piace essere ripreso si 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 proprio allora vabbè io penso come anche la signora no si vanno iniziare cioè poi soprattutto le straniere e togliergli dei punti perché tanto c'è anche qui presenti chi si conosce non ci conosciamo quindi pure noi siamo stranieri la ricchezza sta nel poi ecco relazionarsi cioè fare qualcosa insieme di costruttivo già considerarlo di per sé ah straniero poi ecco come hanno fatto presente anche questi signori che sono arrivati cioè bambini che sono andati qui gente che magari è un quarto di secolo che vive 25 anni non gli hanno non gli hanno riconosciuto un dociglio una residenza cioè bambini si tratta di bambini poi c'è una legge che poi ecco adesso con Laura magari ci diamo pure del tuo perché me li sto facendo tutti questi incontri io ho messo su un'associazione per tutelare i diritti dei minori non l'avessi mai fatto perché ti ritrovi le parrucchiane come se fossero in esclusiva del parroco cioè tutelare i bambini beh questa è una polemica che non finirà mai insomma già l'avevo accennato c'è un decreto il DPR 177 27 maggio del 91 proprio una legge internazionale in tutto il mondo ma come non è attuata qui a Roma la capitale penso del diritto mondiale c'è il diritto romano ne vogliamo parlare finiremo mai però cioè è assurdo che magari a Roma compreso il Vaticano magari non abbia mai fatto una legge e noi abbiamo un DPR un decreto del presidente della Repubblica italiana e questa legge non la conosce nessuno come magari non ci conosciamo è importante ecco mettersi a disposizione come ha detto il signore dopo magari ci scambiamo i contatti noi stiamo su questo sito scherpentone.altentrista.org io penso siamo tutti stranieri diamoci da fare perché non camperemo in eterno e se non ci occupiamo dei diritti dei bambini se non partiamo dai diritti dei bambini dei minori cioè facciamo una figuraccia anzi vi dico una cosa bellissima perché io sono sempre stato da parte degli indiani indiani d'america non sopportato mai i cowboy e una bella frase che magari sai in modo sintetico i pelle rossa i cosiddetti pelle rossa noi non capiamo cioè come voi uomini bianchi cioè maltrattiate in senso educativo i vostri stessi figli cioè lo scappellotto educativo cose assurde quando un bambino dovrebbe essere cioè dal genitore stesso trattato in una maniera più amorevole possibile perché la vita stessa che continua senza ipocrisie il paradiso l'inferno cioè la vita eterna sta nel trasmettere quello che noi impariamo giorno per giorno quindi è importantissimo cioè considerati i bambini i figli di tutti cioè il nostro stesso futuro la nostra stessa vita eterna per sempre maggiore allora vostra magna Simona mi sentite? sì penso che si vorrei alzare il po' così allora io vorrei dire poche cose fondamentalmente voglio partire dal discorso che questa auto organizzazione è positiva che significa che un certo comune c'è un'evoluzione però io credo che non basti l'auto organizzazione è necessario appunto che il comune l'istituzione faccia la sua parte e dovrebbe fare anche la maggior parte delle cose parto da un ragionamento e da una richiesta di informazioni fondamentalmente noi parliamo di numeri che sono quelli per esempio nel testo di cibo che ci sono che il testo di cibo ma il numero di romeni bengalesi cinesi c'è un numero complessivo quello che io non sono riuscita a trovare per documentarmi sono degli indicatori di carattere sociale culturale economico che mi dicano concretamente quante persone ci sono che ha accesso per esempio ai servizi sociosanitari certo c'è anche molto sommerso perché i numeri che noi vediamo oggi il sommerso non emerge però va detto che l'istituzione che dovrebbe essere quella che in realtà mi dà le informazioni mi dà i numeri in questo caso è inadempiente mi rendo conto che questa è una situazione che oggettivamente è negli ultimi anni che si è sviluppata in modo macroscopico però credo che il comune e in particolare l'assessorato delle comuni che sociali si dovrebbe focalizzare cioè fare delle ricerche di carattere micro e macro e di conseguenza riuscire a prendere possesso della realtà esistente perché noi parliamo di tutto cioè parliamo dei servizi sanitari che mancano parliamo dell'istituzione che manca però non sappiamo precisamente quali sono le dimensioni del fenomeno e io credo e io credo che se riusciamo a rispondere a questa domanda potremmo anche essere in grado di riuscire a risolvere delle problematiche perché perché il racconto è straziante è drammatico ma lascia il tempo che ti trova se poi noi non capiamo quali sono le dimensioni del problema adesso io vorrei chiedere una cosa per quanto riguarda le risorse stanziate per il dipartimento delle politiche sociali nel 2016 se non errore se i dati sono corretti erano stati stanziati 242 milioni di euro la proposta di manovra di giunta complessivamente ha ridotto di 50 milioni di euro queste risorse per il 2016 e per il 2018 160 idem per il 2019 allora io mi pongo questa domanda il problema è in crescita è strutturale non è un'emergenza è una situazione che nel tempo implica necessariamente un intervento concreto e non risolutivo perché questa è una cosa le politiche di questo genere si risolvono o il tempo e nel tempo però è anche vero che se si vuole la collaborazione dei cittadini anche le istituzioni devono fare la loro parte quindi come associazione e penso che i suoi dati saranno d'accordo con me se c'è il tema di un principio si riuscisse a conoscere attraverso i questionari con degli indicatori precisi qual è la situazione qual è la situazione culturale sociale politica ed economica cioè un indice di integrazione globale solo così io credo che ci possa essere un effettivo e concreto intervento diversamente possono piacere grazie io faccio parte dello SPI CGL lo SPI è una categoria degli anziani della CGL e la CGL e lo SPI hanno molto a cuore del tema dei migranti ora io penso che siamo tutti d'accordo perché sono anche i nostri obiettivi l'inclusione medica che è stato intitolato diciamo l'incontro di oggi riguarda il tema della casa talve che abbiamo avuto questa testimonianza drammatica di questo secondo che c'è stato tremendo vi ricordo quello del Baupab che a tuttora tutt'oggi non ha una sede e noi della CGL abbiamo messo la camera del lavoro via Bonarroti 12 cioè Piazza Vittorio a disposizione di quei cittadini perché sono cittadini che non hanno dove andare e che vengono a dormire oltre che in altre strutture della camera del lavoro della CGL a Piazza Vittorio allora questo lo dico per dire che siamo attivi nel senso anche pratico perché dare una camera del lavoro la notte facciamo i turni eccetera siamo presenti in tutte le categorie a partire dallo SPI mi vale di poco conto quindi il tema della casa è un tema che è importante il tema della scuola della lingua che è centrale per quanto riguarda l'integrazione che è una parola che io non amo ma perché sembra che sono solo loro che si devono adeguare a noi integrare mentre dovrebbe essere uno scambio tra culture quello che diceva la cittadini sotto la programma che organizzano cene italiani stranieri tra l'anno però lavoriamo moltissimo sullo scambio interculturale attraverso ad esempio il tema della lucina che è fondamentale sul tema della memoria ad esempio ecco un altro tema su cui noi nelle scuole lavoriamo e potremmo farlo anche qui dove noi andiamo a testimoniare come era la nostra scuola di emigranti perché anche noi siamo un po' i emigranti lo scuola il peccato che si è emigranti per andare a cercare lavoro all'estero in tutto il mondo attualmente ma lo siamo anche storicamente e la storia di questi bambini che stanno nelle classi e quindi lo scambio di culture di memoria di storie che è fondamentale perché poi è la base della cultura perché se non si fa cultura in maniera diversa si alimenta il razzismo mi colpisce che qui non nessuno ha nominato questa parola che francamente mi pare un tema fenomeno perché noi sappiamo benissimo che in particolare in molte periferie c'è stata una rivolta perché è lì che poi c'è il coagulo delle disuguaglianze delle povertà e questa roba qua è così che è tantissimo dall'amministrazione in questo caso e mi d'accordo a quello che diceva adesso non sono un po' di chiaro perché ho già abituato a chiamare il nome e che diceva giustamente d'accordo con i racconti che ognuno di noi può fare però poi c'è una sintesi e anche per fare noi un racconto più diciamo all'altezza ad esempio di questo territorio o di altri abbiamo necessità di dati più strutturati no? quali sono le unità? quali sono quelle più antiche? quali sono quelle più recenti? quale integrazione c'è stata? dove c'è stato il problema? dove ci sono stati episodi di razzismo? nessuna questione della casa in un posto come questo che i problemi sarebbero non so come dire oppure quali abbiamo bisogno di dati anche perché i nostri racconti è importante per voi perché ascoltate ma noi abbiamo anche bisogno di incidere lo dico io poi che faccio parte del sindacato che non è l'associazione e quindi è un sindacato che ci ha pezzi di rappresentanza e quindi abbiamo da dire che forse i sindacati insieme alle associazioni dovremmo fare la piattaforma è comune insieme come di tutti insieme mettiamo dei punti che diventa la piattaforma sociale su cui come dire ad esempio il sesto municipio intende mettere dei punti qualificanti su cui fare un cammino che è anche comune e a volte troppo puntuale perché non ci nascondiamo il tema delle risorse finisco è fondamentale perché se sono state tagliate 50 milioni io voglio capire questo municipio quante risorse ha che cosa possiamo fare realmente al di là della buona volontà vogliamo come incidere sulla giunta perché si dia una risposta più chiara e più concreta sulle questioni che sono i fondi senza fondi non si fa niente ma anche senza politiche ma però questo è sbagliato perché io in 16 anni di attività si quello però è sbagliato ho ascoltato e tra l'altro posso dire che ho molto condiviso sul tema dei minori non accompagnati e quanto è importante il tema e di come questo tema stia con le attenzioni anche le attenzioni però ha un monopolio in particolare sui centri anche di accoglienza che poi sono loro che arrivano per primi ai fondi che è esagerato e che arrivano per primi i fondi a giusto appunto e quindi c'è un tema come dire anche di presenza laica dell'istituzione e dei cittadini ho finito però per dire che sono un tema in questo voglio dire una cosa no? Grazie a fare quando riguarda i fondi io non posso parlare per il comune perché naturalmente non ho visione a livello comunale però posso parlare per quello che riguarda il mio di municipio e per quello che riguarda le politiche sociali di cui sono assessore del mio municipio i nostri fondi non sono stati tagliati rispetto a quelli del 2016 anzi sono stati aumentati per alcune luci che riguardavano le variazioni di bilancio che abbiamo chiesto immediatamente dopo essere sediati che riguardavano per quanto riguarda nello specifico il mio municipio l'emergenza direzionale perché rischiamiamo di andare in liquido di bilancio per queste emergenze ma direi che abbiamo lavorato con un'aura a stretto contatto siamo riusciti ad aumentare il a coprire il servizio fino al 31 dicembre questi sono gli unici fondi di cui noi eravamo scoperti perché poi ci siamo finiti anche su un'intervista per questo secondo non sono arrivati i fondi al sasconicino voi non avete il rischio ma quelle variazioni erano state richieste necessarie per chi aveva i servizi che erano a rischio di chiusura noi non li avevamo avevamo soltanto l'esigenza delle case familiari nel bilancio adesso del 2017 abbiamo visto i fondi vecchi più la variazione di bilancio aggiuntiva quindi abbiamo avuto un pochino di anni per quanto riguarda i fondi vincolati questo è vero che sono quei che più non ci arrivano dalla regione ma dal comune abbiamo visto confermato esattamente per il testo pagno del 2016 più le variazioni di bilancio io non dico che è sbagliato quello che voi state dicendo in questo momento io vi sto dicendo ciò che è visto il mio bilancio di questo municipio perché sono ancora a dire le cose che vedo mi sembrava giusto almeno per il sesto dire che noi abbiamo giunto tanto tanto più le variazioni comunque siamo ancora anche tanti che avverranno il segno insomma ma questo è la vera posso solo dire una cosa perché l'impegnato su 242 milioni infanziati l'anno scorso è stato 183 probabilmente sono soldi che sono alzati cioè da 186 ai 242 e quindi sono stati ripachiti in base alle esigenze sono stati io so che sui milioni di municipio i lavori che bisogna fare sono tanti tra cui anche l'interaggio di quella che è la gestione noi abbiamo risoluto che non bastano mai che questo sia ben chiaro anche all'assessore non bastano però non abbiamo avuto dei tagli perché questo mi dispiaceva se passava anche sul sesto municipio i tagli non ci sono di tagli certo il mio municipio avrebbe bisogno di risorse aggiuntive prima andrò a chiedere insieme con l'assessore a battastare nei sedi e nei tempi adeguati per poter accettare maggiormente le liste d'attesa e quant'altro una leggera minima riduzione lo ha avuto sui vincolati che sono poi diciamo quelli che per noi sono almeno più appetibili come fuori perché sono quelli che ci possiamo portare avanti negli anni e che non dobbiamo restituire a fine anno quindi abbiamo un po' di decremento rispetto a quando si parla delle risorse del territorio questo territorio potreste sembrare che inondate le risorse ma non perché ma non ci rispettiamo per un territorio dove c'era il campo di università e dove c'era il sistema e ma questo può essere più un'altra università o rispetto quindi io che vorrei restituire allora avere l'opportunità dove alcuni dottorari di ricerca alcune cose diciamo mosse da quelle istituzioni possono fare una ricerca più approfondita su quel territorio perché questo è un territorio che è legato dove dalla lingua alla capacità di insediamento alla capacità anche di supporto del territorio stesso possono essere anche cose che vengono poi tranquillamente spese noi siamo esattamente in linea ma i dati stessi del municipio sono importanti giustamente ad oggi sono io la prima a richiedervi costantemente ai nostri uffici anche attraverso il segretariato sociale che voi sapete che è il primo di progetto di apprezzare quindi ci muoviamo in linea su questo anche perché non si può parlare di un piano sociale se non si parte dall'analisi del fabbisogno questo è chiaro quello verrà fatto poi nei singoli municipi ognuno come dicevamo carerà poi nel suo di contesto perché Roma è grande ogni municipio è assistante quindi noi non partiremo se non dall'analisi del fabbisogno reale ad oggi e per arrivare a questo si è il contatto con questo non posso che condividere il intervento il primo di dati è proprio il nostro segretariato sociale che è la prima forma di il livello di base di accoglienza che è il primo livello ma siamo in contatto con l'ASLA vedremo l'ASLA nella fine a fine febbraio con i delegati del individuato del sindaco proprio per i rapporti con l'ASLA perché quella è un'altra fonte di dati per noi ci sono i due grandi pronti soccorsi che abbiamo il PTV e il Policlinico Castellino noi per prima potremmo lavorare in rete questo deve essere medicina solidale cioè noi lavoreremo in tal senso anzi con il supporto anche di tutti perché voi avete in possesso di un'altra parte di dati che possiamo tranquillamente condividere no? posso farvi un inciso solo su questa questione delle risorse che è citturale poi dopo in senso noi quello che abbiamo fatto è un bilancio faccio un inciso sulle risorse allora in questo bilancio quello che abbiamo fatto con la Francesca abbiamo consolidato le due variazioni di bilancio autunnali quindi abbiamo consolidato tutti i soldi che erano stati previsti dalla gestione commissariale più le due variazioni quindi siamo a più 28 milioni di euro per gli unicidi quindi questa è stata la parte fondamentale siamo andati a ricercare tutti quei fondi vincolati che non erano da scarti utili quindi trovate questi che vogliamo adesso utilizzare perché parte del problema è anche utilizzare tutti i fondi a disposizione per il sociale non è stato fatto così negli anni passati poi ci saranno che posso annunciare delle variazioni di bilancio in positivo perché stiamo rispondendo ai bandi dei vari ministeri e anche delle regioni quindi noi stiamo facendo anche una scelta di andare proprio a cercarci dei fondi aggiuntivi insomma per il sociale quindi questa è la solo per le informazioni ok gli interventi a me risultano finiti non so se qualcun altro vuole intervenire può farlo prego stanno Alessia Meseresi della comunità di Sant'Egidio volevo aggiungere una descrizione a quello che è stato già detto mi sembra che il discorso sui minori io direi che la maggior parte dei minori stranieri che stanno su questo territorio in realtà di persone straniere ma la maggior parte sono nati in Italia in un quartiere che c'è solo ad esempio qui a Torbella Monaca che c'è il 15% della dispersione scolastica che è composto dagli italiani e grazie alla presenza cioè per dire le risorse anche che diverse classi nelle nostre scuole qui a Torbella Monaca parlo delle classi elementari che è presente quest'anno nell'anno 2016 2017 si sono formati anche per la presenza di questi bambini che vengono erogamente chiamati stranieri perché sono italiani a tutti gli effetti come dicono alcuni di loro lo parlo alla nostra scuola della pace qui su via di archeologia ma io mangio la pasta asciutta e parlo romano cioè noi dobbiamo renderci conto di una realtà bella che varia cioè se no sembra forse gli altri si sono integrati più di quello che noi pensiamo siamo noi che dobbiamo adattarci alla storia dei tempi perché la storia ci ha preceduto e noi stiamo qui no e sono bambini che diventano anche cioè loro un modello per gli altri per continuare studiare cioè noi vediamo la nostra scuola la pace cioè anche che si rubano perché vedono che non è vero che gli altri sono così diversi che i loro figli che i figli dei cosiddetti stranieri sono più italiani di loro e a partire dal discorso culturale della scuola eccetera poi si creano quelle gambe che fanno sì che in un quartiere come questo non ci sia un'esplosione perché viviamo anche in un tempo in cui la televisione parlo solo della televisione perché quella che qui viene più seguita rispetto al giornale ogni sera non manca di fare un programma contro cioè c'è una propaganda razzista che non che non dica perché credo che tutti abbiano visto nello scorso inverno il programma su Torbella Monaca e Torre Angela nella presenza degli stranieri che era una specie di attentato terroristico psicologico a chiunque lo guardasse diciamo pure è quello di noi più motivato adesso io penso che questa risorsa ha utilizzato lei ha parlato del pronto soccorso io lavoro al pronto soccorso di Tor Vergata e le dico che spesso uno dei grandi problemi per un pronto soccorso così grande che mancano i mediatori culturali linguistici noi abbiamo il problema di persone che arrivano anche nei centri di accoglienza eccetera che hanno bisogno di essere visitati d'urgenza al pronto soccorso e io spesso sono costretta al pronto soccorso a chiamare amici e lavorare tanti figli perché non mi danno anche idolo che parlano di te eccetera e traducono al telefono alla dottoressa il pronto soccorso che c'era e nessuno aveva allora secondo me dobbiamo fare dei collegamenti trovare delle risorse non è un problema buonista perché sennò sembra certe volte che noi siamo così buoni che permettiamo anche agli stranieri di integrarsi e di venire nella nostra scuola cioè noi troviamo le classi e i nostri insegnanti con la casa non c'è di mani a Tor Vergata la monaca vecchia cioè ci sono classi intere composte no cioè noi dobbiamo provare non dobbiamo secondo me né avere paura di dire quali sono i problemi però metterli insieme alle risorse e fare una lettura oggettiva perché sennò qui oscilliamo dal fatto che è bellissimo e va tutto bene al fatto che è tutto orrendo c'è solo il razzismo cioè se dobbiamo fare un piano di lavoro dobbiamo vedere tutti e due noi stiamo in archeologia abbiamo abitato spesso anche qui in municipio a venire a vedere anche nel calcio il titolo di oggi era parlava di modelli io credo che tutti noi qui lavoriamo a vario titolo non vale volontariato c'è chi è presuppato in realtà siamo un mondo complesso articolato che poi si intreccia perché penso che una delle cose che abbiamo fatto è stata provare a andare in alcuni di questi centri anche per dire guardate noi ci siamo qualsiasi cosa possiamo metterci in contatto c'è la scuola di lingua e cultura italiana perché c'è una complessità di questa periferia che però è anche un grande risorsa cioè voglio dire è anche che non è l'animo buono però è anche mettere insieme le cose e aiutarsi in questo senso no lo dico perché oggi mi sembra che abbiamo detto tante cose anche interessanti ma noi che stiamo qua solo per dire io faccio questo l'altro fa quella ok che cosa però vogliamo fare con questa popolazione che sono nuovi europei prima non si sentiva ma la mia collega che ha parlato prima ha parlato di nuovi europei perché c'è la storia e abbiamo dei bambini che sono pieno titolo italiano italiani cosa vogliamo farne cioè come ci colleghiamo come lavoriamo insieme anche per il futuro perché non è solo provare risorse economiche ma anche di risorse proprio umane fattive e volevo anche dire l'ultima cosa noi viviamo in un municipio in questa realtà complessa dove io accompagno gente a chiedere l'asilo la residenza quello che è e spesso l'operatore ha detto all'ufficio non voglio che non pretendo che parli l'inglese non mi interessa la lingua straniera mi porto io il traduttore però che un minimo sappia della legge nuova di che cosa deve cercare il computer eccetera sì allora perché non promuoviamo la formazione del personale in questi municipi che hanno questa presenza così articolata no perché poi il problema non è l'operatore cioè provare non a prendersi con l'operatore che non ascolta e dare uno strumento all'operatore che gli spiega oggi la legge è questa per cercare la residenza è questa per cercare perché noi siamo arrivati al punto alcune volte di mettermi con la mia collega al computer e di guardare la faccio io poi così cioè perché non fate una formazione si sta parlando noi adesso abbiamo conosciuto due obiettivi per quanto riguarda il personale il primo è farla arrivare nel senso che stiamo un pochino sotto con i numeri soprattutto abbiamo dei settori in difficoltà tra cui l'anagrafico è proprio uno di quei settori quindi abbiamo proprio incontrato il dirigente personale per chiedere delle risorse aggiuntive qui al municipio poi la formazione abbiamo parlato con gli uffici del dipartimento stavamo pensando a una formazione a me piace molto l'incontro di oggi perché poi le difficoltà che nascono o comunque le domande che si pongono alcune sono nuove altre sono in sinergia quindi abbiamo un doppio check un doppio riscontro su quella che è la realtà poi del municipio perché stando noi molto presenti sul territorio le vediamo per primi e poi dopo parlare con voi e vedere che anche voi avete le nostre stesse percezioni che per esempio l'anagrafico va potenziato ma quello è un crucio che già il direttore apicale del municipio tutte le mattine sta facendo richieste perché se dobbiamo lavorare con le residenze quant'altro dobbiamo stare al passo con i tempi arriveranno dei computer nuovi anche quello per esempio è un aspetto importante siamo in attesa di una nuova dotazione di tipo informatico quindi è è un doppio riscontro per me questo momento che stiamo prendendo insieme vi ringrazio perché poi uno si chiede sempre se sta andando nella giusta direzione allora se io percepisco la necessità di chiedere un pc e voi la riscontrate con me allora evidentemente sto andando ma quello del pc è un esempio banale quindi da oggi lo vedo che stiamo andando nella giusta ruta ma possiamo sempre migliorare ecco questa è un po' la figura per quanto riguarda me poi lascio la parola a Laura che è qui è stato un momento di incontro non ci siamo quindi non abbiamo ascoltato tutti ma io tanto c'è molti di voi già ho avuto modo di conoscerli si è già iniziato un percorso insieme e si porterà avanti questo percorso non crediamo assolutamente che questi momenti siano esaustivi e risolutivi rispetto alle problematiche perché sappiamo tutti che poi abbiamo una quotidianità a cui rispondere allora se la qualità è importante ed essendo secondo me quello di integrazione reale poi alla fine vivere bene nel posto dove si sta e quindi da qui poi poi parte una serie di riflessioni che faremo anche in altre sedi noi anche con incontri più ristretti o più allargati insomma questo è il minimo quindi ti ringrazio di essere venuti e di aver portato le vostre esperienze di averci conformato alcune riflessioni aperto ad altre per esempio quello delle badanti io lo ringrazio era una cosa su cui non avevo mai puntato l'attenzione invece è un modo di vedere la questione altro ma che è molto molto importante ma come l'intervento del signore ce ne sono stati tanti altri quindi è stato un piacere per me ospitarvi e voi qui trovate sempre le porte aperte per un confronto con qualsiasi tipo di tematica partendo dalle commissioni ma anche dal mio ufficio che è a vostra disposizione insomma vi ringrazio ancora e lascio la parola a Scusa se c'è una cosa voglio dire c'è una cosa velocissima per cui farai mi hai riparato la parola no 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 che non mi devi la parola ecco io ho fatto le spese 5 anni fa di spese la notte dovrebbe essere e per la l'idea ho sentito il problema di una terza naturalizzazione perché pure qui il signore mi ricordo che la legge c'è il diritto alla disenza una legge del 45 quindi 45 ad oggi ecco sono passati circa 60 anni quindi la realtà bisogna affrontarla poi in questi termini allora o facciamo un discorso che sia veramente più unico no che anche dici ok dobbiamo andare alle 5 sede io a San me lo vedo tra il dopo bisogna continuare con un certo nuovo no allora buonasera trovo Lara un po buonasera a tutti e grazie veramente sono d'accordo con quello che diceva Francesca che stiamo facendo il giro per i municipi sono veramente un'occasione importante per noi per imparare e anche un po' per essere confortati in questo quello che stiamo facendo insomma quindi io penso che il confronto sia sempre un elemento di grande arricchimento allora noi qui siamo facendo un incontro a livello di cosa dal percorso a livello municipale mi invito sia a continuare a diciamo facciare questi incontri cittadini ma poi ogni municipio evidentemente per la costitività perché noi stiamo appunto programmando e stiamo tornando a programmare dopo 13 anni e non è un esercizio semplice e per fare un bel interesse a un ruolo l'ho fatto a Spania di l'azzo che è venuto 3 insomma un lavoro che partisse proprio dall'ascolto di chi opera sui territori e quindi anche per questo la scelta di andare unicibio per un unicibio e l'ascolto anche dei cittadini delle cittadine dirette insomma quindi sono aperti questi incontri appunto sia le associazioni che i cittadini e dico perché noi stiamo per cambiare diciamo attuare dei diritti da molti nostri e dosi dei cori molto chiaramente noi dobbiamo cambiare le norme no? a partire dall'attuazione virtuale di quello che ci dicono anche le convenzioni internazionali che sono diventate poi le leggi per il nostro Stato quindi sono delle noi siamo obbligati insomma a attuarli dobbiamo cambiare anche le politiche e qui sappiamo quanto sia importante perché quello che affrontiamo oggi è un fenomeno in continua evoluzione quindi non possiamo affrontarlo come lo affrontavamo ad esempio 13 anni fa 20 anni fa ma dobbiamo noi stessi sempre no? in qualche modo aggiornare e verificare l'efficacia dei nostri interventi ma poi dobbiamo cambiare anche le prassi operative questo è venuto fuori molto chiaramente dal discorso dell'ufficio anagrafico no? che diceva l'ultimo nell'ultimo intervento quindi dalla formazione delle persone che in diverso titolo sono coinvolti nell'accoglienza diciamo in senso lato in questo momento al scorso dell'acqua ci portava l'attenzione all'esperienza fatta in quinto municipio quanto magari perdiamo anche delle esperienze che funzionano e che lasciamo un po' per strada con progettualità che finiscono e dobbiamo entrare proprio nei dettagli questo è un aspetto fondamentale per farvi un esempio che noi siamo partiti dal modulo quest'anno dell'iscrizione alle scuole d'infanzia che abbiamo detto traduciamo in più lingue e per esempio questo non c'è con il massimo sempre modulo tradutivo può sembrare un'azione no? banale che sono fatto magari in singola di scuola ma non è fatto a spiego per tutti i moduli per esempio di Roma capitale questo è un esempio come si vorrebbe anche molto semplice però siccome veramente attuare la cultura dell'accoglienza noi dobbiamo entrare molto molto nei dettagli allora per entrare nei dettagli noi abbiamo dato questo titolo che avete notato modelli di inclusione di persone di origine straniera perché poi i temi contano contano tantissimo e noi sappiamo che anche da insomma quanto i vostri interventi oggi è stato evidente come parliamo di situazioni molto diverse tra loro che allora c'è un problema diciamo rispetto proprio al tema del razzismo che veniva quindi dobbiamo fare un'attenzione ai termini perché siamo la deriva è dietro l'angolo noi abbiamo parlato di extra comunità cioè di quanto più lontano di quattro anni che lontano invece che avvicinare ora non è questa la sede ma insomma è molto interessante anche vedere l'evoluzione i modi di chiamare insomma queste persone dall'altro noi abbiamo bisogno anche proprio di entrare molto nel dettaglio io ero molto d'accordo con il corrighiamo fatto ai dati e alla necessità di approfondire perché noi non possiamo essere superficiali non possiamo più essere superficiali perché sappiamo a che cosa porta questa superficialità porta poi alla possibilità magari per singole persone singole associazioni di diventarsi anche attività molto significative no? lo devoli e meritorie ma non portano a dare delle risposte di sistema delle risposte per tutti delle risposte che siano in primis secondo me in carico all'amministrazione in questo caso all'amministrazione comunale perché così parliamo di questo è un aspetto molto importante il fatto di capire esattamente a ci fanno a ci fanno se ci stiamo rivolgendo a persone che sono inarrivate se ci stiamo rivolgendo a delle persone che hanno diritto al riconoscimento dello Stato di rilugiati a delle persone che vogliono soltanto transitare e ritagliare la risposta a seconda delle persone alle quali facciamo riferimento prima di tutto questo è un aspetto secondo me in una fase di programmazione fondamentale poi dobbiamo capire stiamo rivolgendo a dei minoranni voi l'avete ricordato l'importanza ad esempio questo tutti gli studi lo dimostrano come è fatto in Italia per fortuna tu puoi essere anche irregolare come agosto quando tuo figlio va a scuola tua figlia va a scuola questo è un elemento fondamentale in Italia e sappiamo quanto la scuola sia importante proprio per emergere poi dall'invisibilità di tante famiglie di origine straniera quindi la scuola è importante ovviamente per i ragazzini stessi ma poi per l'intero nucleo familiare e per tutta la rete per questo sulla scuola potrebbe veramente essere molto più efficace sull'inclusione sappiamo degli adulti chiaramente l'intervento che c'è stato voi lo vedete tutti noi viviamo sui territori ma queste sono le realtà che le troviamo cioè noi a Roma abbiamo più di 100 immobili che sono lasciati negli anni sono stati occupati soprattutto da stranieri non soltanto quindi da persone che in questo momento che hanno specialmente la casa perché è perfetto anche da Roma durata con lì cioè delle elezioni che lasciano uno stato di illegalità per anni generi anche un certo tipo di risposta dalle persone dagli occupanti stessi quindi c'è un problema molto serio di come come facciamo a ritornare alla legalità in questa città che ha tanto tollerato tanta illegalità a tutti i livelli questo non sarà semplice dico perché è molto facile in interno nei piccoli e nelle premesse molto difficile entrare nel concreto non è affatto semplice questo perché c'è una abitudine di illegalità c'è stato a San Basilio in cui abbiamo rischiato di far diventare razzista un quartiere perché un condominio a un certo punto non aveva fatto entrare una famiglia marocchina che aveva avuto diritto appunto ad una casa popolare perché aveva fatto domanda e aveva tutto il diritto allora lì il rischio poi delle guerre cosiddette lo scusate lo dico male ma insomma tra poveri è veramente quello che noi dobbiamo evitare noi dobbiamo ascoltare e anche oggi se avete visto abbiamo annunciato questa cosa ci sono cittadini che dicono evo occupare degli stranieri e degli italiani non evo occupare questo no più cioè qui noi non dobbiamo contrapporre i diritti degli italiani dal livello degli stranieri rispetto a quelli degli stranieri dobbiamo fare un ragionamento in cui un modello di inclusione è un modello che va bene per tutti noi lo diciamo sempre quando noi riusciamo a garantire i diritti ai più fragili e in molto casi come ben sapete persone di origine straniera sul nostro territorio sono fragili per la situazione che si trovano a vivere quando garantiamo noi i diritti abbiamo già garantito quello di tutti gli altri significa perché abbiamo un modello che è attenta appunto a non lasciare indietro nessuno italiano o straniero che sia questa è una sfida veramente politica e culturale c'è il tema poi appunto secondo me dei numeri sostenibili questa è una questione molto seria è una questione che a livello nazionale regionale e poi locale cioè per avere un'accoglienza di qualità rispetto veramente a chi è serva e garantirla a chi è già vive sul territorio noi dobbiamo avere dei numeri che siano sostenibili questa è la battaglia che noi stiamo facendo anche i voti del governo spiegando che noi vorremmo grazie poi al lavoro in prese che parleremo proprio qualificare i nostri aiuti per l'accoglienza perché questo momento si è lucrato soltanto appunto il tetto e il cibo e voglio dire mafia capitale non è l'altro ieri è ieri e dobbiamo anche oggi ancora farci i conti purtroppo perché è un sistema culturale non è soltanto un sistema criminoso evidentemente che ha consentito comunque appunto di lucrare proprio sulle situazioni di maggiore svantaggio quindi questa è una riflessione che noi dobbiamo continuare a fare quotidianamente come sia stato possibile dire tutto questo come sia stato tollerato tutto questo da tanti soggetti che c'erano non hanno avuto chiaramente parte sugli aspetti penali ma dal punto di vista politica e culturale è molto importante fare questa riflessione perché in questi ambiti che mafia capitale ha speculato in questi ambiti non su altri quindi c'è un tema secondo me sul quale appunto dovremmo continuare a riflettere per gli aspetti appunto per capire appunto come cambiare proprio il quadro di riferimento i dati questo è fondamentale noi stiamo piegando la collaborazione questo per tutto il piano sociale cittadino perché i dati che abbiamo non sono sufficienti per programmare perché noi vorremmo avere e l'abbiamo messo nella memoria di giunta che abbiamo poi approvato che in qualche modo ha dato in là questo percorso per la chissura del piano sociale cittadino abbiamo detto chiaramente vogliamo un orientamento ai risultati cioè non ci interessa soltanto fare le cose ma anche parlare di fatto c'è persone e per farlo appunto giustamente le ricordavo dobbiamo avere degli indicatori degli indicatori validi se no appunto vorremmo noi cioè dare come dire dare dignità importanza alle politiche sociali significa anche restituire una scientificità dei politici sociali quindi stiamo chiedendo la collaborazione alle università appunto di Roma e quindi entrare molto nel dettaglio e avere anche dati disaggregati per cito siccome il bilancio è un attuale ci aiuta a dire esattamente dove stiamo andando e questo è l'altro aspetto secondo me molto importante ma come dicevo prima il bilancio va letto anche nell'incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa c'era appunto uno stato di intervento che ha detto se non c'è la lotteria il problema secondo me io il bello è che ci sono le risorse che non vengono né trovate che potrebbero invece essere attivate né appunto utilizzate quindi c'è una grandissima potenzialità in questa fase di programmazione che noi possiamo avere allora io andrò poi per punti perché chiaramente non vorrei rubarvi molto tempo noi chiaramente adesso abbiamo preso nota di tutti questi interventi voi potreste continuare anche voi anche altri a contribuire perché noi stiamo soprattutto raccogliendo delle buone prassi faccio riferimento anche a singole esperienze che sono state qua rappresentate perché l'idea è un po' quello di capire magari delle singole associazioni o appunto istituzioni in rete l'esempio che faceva per la scolarizzazione l'esempio di queste creare dei legami sociali diretti tra le persone cioè noi vorremmo in qualche modo analizzare delle buone prassi per capire come possiamo inserirle poi nella programmazione quindi metterle un po' ci sono tante iniziative che stanno funzionando e che però magari rimangono sui territori non vengono studiate non vengono condivise questa è un'altra parte importante della ricchezza che noi lavorando in rete possiamo utilizzare allora rispetto al modello di inclusione innanzitutto voi l'avete detto l'accoglienza deve essere un'accoglienza diffusa sui territori noi stiamo finendo manca la parte che i migliori sono accompagnati un'analisi per esempio useremo quindi per vedere tutti i rinvitati se vorrete partecipare siamo vediamo proprio un'analisi anche con una geolocalizzazione di tutti i luoghi dell'accoglienza su Roma questo sia diciamo quelli che dipendono direttamente da Roma Capitale ma come sapete per le persone di origine straniera ci sono anche dei centri che dipendono direttamente ad esempio dal ministro dell'interno quindi complessimente si scopre già dalle primi dati che abbiamo che chiaramente questo quadrante qua come anche ricordato allora anche lì avere un'accoglienza più diffusa sul territorio cittadino aiuta anche sia per le persone accolte che per i cittadini che già abitano in quei quartieri in quei municipi a rendere tutto più sostenibile proprio per qualificare meglio questa accoglienza poi sicuramente è questa uscita è stata faticosissima non so se è andata via la signora dell'ospicigielle però sul tema dei migranti ah ecco no perché le volevo dire sul tema dei migranti transitanti è stato uno dei primi temi chiaramente che abbiamo affrontato come salvo a luglio ancora c'erano queste persone in strada perché il centro BAUBAP era già stato escluso a metà del dicembre del 2015 e i migranti venivano ospitati in strada noi abbiamo fatto un grande lavoro lì sia insieme alla prefettura per fare in modo che tutte le persone che erano già accolte nei posti di Roma Capitale destinate a grandi transitanti che quindi sono come lei pensa una tipologia particolare di migranti migranti che vogliono continuare il viaggio non vogliono appunto rimanere sul nostro territorio quindi anche lì il modello va ripensato e tagliato su queste caratteristiche particolari quindi di fare in modo che tutti invece appunto quelli che stavano nei posti per i migranti transitanti che però avevano in realtà aderito alla relocation avevano diritto a stare nei posti di stano dell'interno quindi transitare per permettere l'accoglienza dei migranti transitanti quindi in questo momento io le segnalo tra l'altro che noi i dati ce li abbiamo ogni giorno perché c'è la sala operativa sociale che è attiva e che offre molto spesso l'accoglienza quindi noi abbiamo aumentato i posti questa settimana altri 50 posti anche all'interno del piano freddo però molto spesso non vengono accorti questi ultimamente proprio non vengono accorti questa offerta perché appunto preferiscono stare in altre situazioni io lì lo dico perché noi dovremmo fare una riflessione molto seria e come ben sa noi stiamo lavorando anche con le organizzazioni le istituzioni che negli anni hanno lavorato su questo si 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 ci siamo incontrati a piedi quindi c'è un dialogo proprio perché appunto è importante capire anche come noi non freghiamo delle situazioni anche lì di illegalità no? ma soprattutto dal punto di vista della tutela di queste persone loro devono sapere perché ogni volta che venivano fatte delle attività di identificazione tante di ACUPA tante delle persone che stavano in strada erano persone già accorte del sistema magari che stavano in uno strarra o appunto nel sistema dell'inizio dell'interno che preferirono stare lì non so quante di loro e questa era anche la nostra preoccupazione che rischiavano di perdere il diritto all'accoglienza altrove in strada quindi il fenomeno è molto compresso e va letto con grande attenzione evitando delle strumentalizzazioni insomma per cui noi adesso stiamo garantendo dei posti stabilmente negli anni tranzitanti all'interno del sistema di accoglienza di Roma Capitale perché non lo vogliamo considerare un fenomeno intergenziale perché sappiamo una Capitale come a Roma all'interno di un paese europeo dove appunto ci sono questi russi di immigrazione sono anche grandi tranzitanti poi c'è tutto il tema dei servizi come ricordato questo è un aspetto fondamentale cioè i nostri servizi che diceva il pronto soccorso il mediatore al telefono il problema dell'ufficio anagrafico allora io qui lo dico chiaramente perché noi stiamo finendo appunto stiamo lavorando molto anche con gli assessori municipali tanti sono anche qua presenti e vi ringrazio ad una delibera per le presidenze fittizie che sapete che è essere fondamentale quindi siamo arrivati alle battute finali allora anche lì è molto importante parallelamente a questo lo stiamo prevenendo un interno portare come veniva ricordato anche gli uffici anagrafici anche perché noi secondo me dobbiamo anche evitare il fatto che siano le associazioni nel vuoto lasciato negli anni appunto dal pubblico a sostituirsi cioè le associazioni in questo momento possono tornare piano piano a svolgere il loro ruolo principale non a sostituirsi in questo caso all'amministrazione capitolina così come vi facevo l'esempio dell'iscrizione quello che è stato appunto adesso si sono chiuse il 6 febbraio le iscrizioni alle scuole di infanzia ma anche per tutti gli altri servizi secondo me è importante fare una riflessione su come noi li rendiamo più accessibili e allora parleremo spero di rivederla prossimamente della questione rom-sit e camminanti però vi è un tema chiave che noi dobbiamo creare dei servizi speciali ma dobbiamo creare dei conti che consentano a queste persone l'accesso ai servizi quando appunto i guardi hanno diritto poi ecco secondo me il cambiamento fondamentale e l'avete detto lo dico con parole diverse sono molto d'accordo è proprio il cambiamento di ottima cioè considerare queste persone no? si diceva le ditte il carmiero cioè questo è un cambiamento che personalmente ci porta per esempio ma no ma io lo chiediamo che cosa si può fare che cosa vorrei potrebbero fare come potrebbero come potrebbero come venire la specificità dell'Australia dove va ad esempio il Canada questo passaggio di competenze di stranieri che diventano formatori di formatori dove stanno lo stesso un'attività di mediazione che magari sono anche molto più efficace in questa azione cioè possiamo anche da altri paesi imparare e possiamo mettere a sistema dei mechanizmi ma se cambiamo approccio rispetto a loro noi per esempio per darvi un esempio concreto stiamo adesso chiudendo un protocollo con la prefettura perché c'era una circolare del 2014 che consente ai richiedenti asilo di svolgere attività di volontariato sul territorio questa circolare su Roma non è mai stata attuata quindi con la prefettura abbiamo trovato l'accordo e quindi all'interno tra l'altro adesso del nuovo brando strare in particolare ci sarà anche questa possibilità e tra l'altro dato che la circolare preveda che sia fatta attraverso associazioni di volontariato queste sono veramente chi vorrà poter mettersi a disposizione del territorio questo è un modo di creare legami sociali perché guardate che il problema appunto di vederli in strada come dicono tanti cittadini romani e che appunto ci fa sfociare anche a forme di potenziale razzismo intolleranza eccetera è un problema per i cittadini romani ma è un problema anche per queste persone che non hanno la possibilità di avere un'occupazione quotidiana e chiunque di noi abbia avuto esperienza negli anni di attività con appunto migranti sa bene quanto sia importante ma come fa per tutti noi dare un senso alla nostra quotidianità e sentirci utili dove viviamo e questo è cambiamento se no capisco anche il senso di uno dei primi interventi che noi dobbiamo fare cambiare proprio ottica se volete li possiamo considerare risorse se ci piace però considerarle prima di tutto persone quindi avere un modello che sia a 360 gradi per la loro accoglienza così come tutto il tema dello scambio delle attività culturali cioè su Roma c'è pochissimo dal punto di vista rispetto alle tante comunità che sono presenti dal punto di vista dello scambio culturale della scambio della loro arte di progetti di convenienza la possibilità di fare attività artistica insieme e di inventarci luoghi di cultura realmente il metistaggio e qualche altro c'è pochissimo in realtà e noi sappiamo ma invece lo scambio culturale sia importantissimo anche per la stessa conclusione sociale e poi per i diritti e poi chiaramente c'è un lavoro da fare con le istituzioni noi stiamo lavorando la Tisma per me per me per ragione per i soldi lo dico lo dico per i soldi ma anche per le attività perché anche la regione stessa deve sapere sta facendo un percorso per la programmazione in ambito sociale quindi anche per avere delle politiche regionali diciamo che siano lì con questo tipo di indicazione chiaramente con la prefettura con la questura c'è tantissimo voi lo sapete chiunque lavora con i migranti sa quanto sia importante appunto trovare una rete poi istituzionale che sappia parlare una stessa lingua realmente il lavoro con le associazioni e guardate qui è mancata lo dicevate con parole diverse una regia pubblica anche a livello territoriale perché magari ci sono tante realtà associative che duplicano gli interventi che uno non sa che cosa viene a fare per parlare c'è tantissimo questo allora immaginare invece una regia a livello municipale che metta insieme l'amministrazione con quello che fanno il privato sociale l'associazionismo le organizzazioni tante organizzazioni anche internazionali agiscono sui nostri territori tutto questo ci permette di tirare delle sinergie e noi per esempio adesso lo faremo sperimentalmente proprio sui miei interventi non accompagnati perché abbiamo capito che da e questo viene anche dall'esperienza per esempio di un protocollo prima di tutto interstituzionale per capire esattamente cosa perché i miei interventi hanno un'opportunità che fino a tre dovevano aspettare la possibilità di essere accolti all'interno dei commissariati perché i numeri in certi momenti sono ingestibili quindi abbiamo fatto tutta un'azione con la regione grazie alla prefettura grazie ai fondi appunto alle economie dei fondi del giubileo per raddoppiare la possibilità del centro di primissima e di minori gli stagliari non accompagnati perché dobbiamo avere anche dei servizi che siano appunto adeguati rispetto ai numeri noi adesso andiamo avanti con questo percorso diciamo non è un percorso semplice come sapete diciamo poi anche confrontarsi direttamente secondo me è paradossalmente una novità ho capito anche in questa città diciamo fuori dalla stagione elettorale cioè continuare diciamo a impegnarsi per avere un confronto diretto con i cittadini io credo che sia una parte fondamentale stiamo incontrando tantissimo anche le associazioni stiamo lavorando anche con le istituzioni perché guardate che a Roma cioè se noi possiamo farcela soltanto se lavoriamo insieme poi ognuno ha le proprie responsabilità con le ruoli anche molto precisi ma è fondamentale lavorare insieme perché le questioni sono enormi noi giovedì appunto incontreremo queste persone poi appunto il municipio va molto lavorato il giorno anche dello sgombro di queste persone ma come dicevo all'inizio il ritorno alla legalità che è un cammino non è un cammino molto semplice è abbastanza complesso e abbiamo veramente bisogno di una scelta di campo direi in questo momento da parte di tutti e di tutte grazie applausi 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 diamo il prossimo applausi applausi ci vediamo il 21 febbraio sui rossi e camminanti a l'unicesimo cio grazie applausi applausi